Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'Angelo del Crimine. Avere una passione arricchisce gli esseri umani, li rende vivi e desiderosi di nuove avventure. E avere una passione come quella di Anna Rita per il mare e la navigazione è qualcosa a cui ognuno di noi dovrebbe aspirare. Anna Rita amava il mare e il mare un giorno l'ha portata via con sé per poi restituirla a noi affinché qualcuno le rendesse giustizia. Questa è la storia di un grande amore ma è anche una storia violenta e crudele con un finale tragico. Oggi vi racconto di Anna Rita Curina e di chi le ha distrutto un sogno, Filippo De Cristofaro. Vi avviso in questa storia farò un po' di su e giù temporali ma vi assicuro che capirete tutto. La nostra storia si apre, o per meglio dire si chiude, in un piccolo porto in Tunisia il 3 luglio 1988, quando le autorità tunisine completano le operazioni di ormeggio di un'imbarcazione che era stata abbandonata su una spiaggia a pochi chilometri da Tunisi. La barca ha un nome corto e accattivante, Flaichu, ma non è un'imbarcazione qualunque, quello è un catamarano, un tipo di barca a vela con un doppio scafo collegati da un ponte, leggero ma stabile, perfetto per delle lunghe traversate. Ma Flaichu ha un altro primato, quello di essere il catamarano più ricercato del Mediterraneo. Ecco perché quando lo recuperano su quella spiaggia, tutti tirano un sospiro di sollievo. Quella storia, iniziata poco meno di un mese prima, era finalmente finita. Quel 3 luglio 1988, quindi, Flaichu termina la sua tragica avventura, ma la fuga dei tre che l'avevano abbandonato su quella spiaggia, quella, continua via terra. Ma non durerà molto. I tre fuggiaschi vengono acciuffati a Garemel, a nord di Tunisi, mentre tentano di raggiungere il confine con la Libia, in sella dei cavalli, il 19 luglio del 1988. Loro sono Filippo De Cristofaro, Diane Bayer e Peter Gronendik. Ma chi sono questi tre individui e cosa li porterà in Tunisia ricercati da mezza Europa? Per spiegare questa tragica storia bisogna partire da un fatto importante. Flaichu non è il nome con cui il catamarano ha iniziato la sua lunga e tragica traversata. Il suo nome in origine era Arts e il suo viaggio aveva avuto inizio qualche mese prima, quando a guidarlo c'era una donna dall'anima bella e pura che inseguiva il sogno di una vita, quello di diventare una skipper e navigare per tutto il Mediterraneo. Quella donna è Annalita Curina. Torniamo in Italia, quindi, e riprendiamo il nostro racconto da qui. È il giugno del 1988. Siamo sul lungomare di Rimini e sulla lunga promenade della città romagnola passeggiano da un lato Stefano Bersani, dall'altro Filippo De Cristofaro è una giovanissima ragazza che cammina al suo fianco, Diane Bayer. De Cristofaro riconosce in Bersani un amico dell'uomo che qualche mese prima gli aveva venduto una barca. I due si mettono a parlare, Stefano chiede a Filippo come si fosse trovato con la barca e che progetti avesse per l'estate. Filippo si tiene vago perché intuisce, dal tono della conversazione, che Bersani, uomo di mare e amante delle avventure, gli stava per proporre qualcosa. E non sbaglia Filippo. Sai, io e una mia amica skipper vorremmo fare una bella traversata fino alle Baleari in Catamarano. Ci verresti? Sai, ci servirebbe un po' di manovalanza. Filippo lì per lì non risponde. Ti faccio sapere, gli dice. Sembra una frase di circostanza, una cosa detta tanto per tagliare corto. Invece no, perché a De Cristofaro quella situazione interessa. Anzi, lui vuole proprio farlo. Così chiama Bersani che fissa un incontro a Pesaro per incontrare l'amica e definire le fasi del viaggio. Qualche giorno dopo, Filippo e Diane incontrano per la prima volta la skipper che avrebbe guidato il Catamarano fino alle Baleari, Anna Rita Curina, la tragica protagonista della nostra storia. Anna Rita ha 31 anni e un casco di capelli castani schiariti dal sole che la salsedine ha reso un po' crespe e indomabili. Così come la pelle, abbronzatissima. Ha il sorriso aperto di che è felice Anna Rita. Un sorriso che si apre alla vita e a tutto ciò che di più bello esiste per lei. Il mare, il suo silenzio, la sua calma, ma anche il suo carattere impetuoso quando si ingrossa. Ama il mare Anna Rita e in una città di mare c'è nata. È di Pesaro infatti e fin da bambina sogna di poter ormeggiare la sua barca lì nel suo porto. Ma prima di realizzarlo quel sogno, Anna Rita fa tutte quelle cose che una ragazza cresciuta in un ambiente borghese deve fare. Studiare e prendere una laurea, ad esempio. E così fa. Si laura in lingue straniere con specializzazione in lingua francese e si perfeziona alla Sorbonne di Parigi. E da lì, dai tetti della capitale francese, sogna il suo mare e scrive lunghe lettere agli amati genitori. Quando torna a Pesaro realizza il sogno di diventare una skipper. Non è molto esperta e quindi all'inizio fa tantissima gavetta trasportando su e giù i turisti da un porto a un altro. Ma il suo sogno è sempre lì che l'attende, la sua stella polare, comprare una barca tutta sua e navigare per vivere. E così avviene, dopo anni di sacrifici, nel 1987 acquista un catamarano a cui dà il nome di Arz. Un sogno lungo 10 metri, a ve le spiegate. Con Arz Anna Rita inizia a organizzare dei tour per i turisti, ma ha in mente solo quello, una traversata per tutto il Mediterraneo, direzione Baleari. Quando si ritrovano al tavolo di un bar, Anna Rita e Filippo si fanno subito simpatia. Dopotutto Anna Rita è un vulcano e il suo entusiasmo per quel viaggio coinvolge tutti, o meglio, quasi tutti. Diane, che è lì insieme a loro, è molto giovane e poi non conosce la lingua perché è olandese. La ragazza se ne sta lì in un angolo, tra l'annoiato e l'infastidito. Niente di ciò che ha fatto negli ultimi mesi è realmente di peso dalla sua volontà. E quella era l'ennesima avventura in cui Filippo la stava trascinando. Ma quella, a differenza delle altre volte, era la prima volta che, oltre a loro due, c'era una terza persona e pregiunta una donna. Ma per capire come i destini di queste tre persone si intrecceranno insieme, bisogna partire dall'inizio, bisogna partire dalle storie. E quindi raccontiamo la storia di Filippo e di Anne. Filippo De Cristofaro nel 1988 ha 34 anni, ma di vite ne ha già vissute tante. Nasce a Bari nel 1954, ma si trasferisce con la famiglia a Milano. Brucia le tappe, Filippo a 18 anni si trasferisce a Rotterdam per seguire una ragazza olandese venuta in vacanza in Italia e di cui si invaghisce. Ciò che non si aspetta a Filippo è di ritrovarsi ad appena 19 anni, già padre e marito, senza volerlo davvero. E non è difficile immaginare come il matrimonio, dopo pochi mesi, finisca a gammellaria. Filippo, che ha sempre amato la bella vita, sognava di far parte del jet set e di vivere su una bar, sulla quale farsi cullare dalle onde. Ma mentre agognava il lusso, si accontentava di frequentare i night club e di uscire con molte ragazze. Poi però la realtà lo trascina giù. Il matrimonio, la paternità, sono secchiate gelate in faccia che lo spingono a cercare occupazioni stabili. E dai night club all'ufficio dove lavora come contabile, il passo è sì breve, ma anche pesante. Per anni viverà così, cercando di rigare dritto, ma covando dentro di sé una grande frustrazione. La delusione di non essere l'uomo di successo, che avrebbe sempre voluto essere. Così a 33 anni decide di dare una svolta alla sua vita e insieme a un amico decide di rispolverare quel suo vecchio sogno legato al ballo, sua grande passione. Così, insieme all'amico Peter, apre a Rotterdam una scuola di danza. Ed è qui che il destino di De Cristofaro fa una grande virata, perché lì, in quella scuola, conosce Diane Bayer e se ne innamora. Tutto bene, direte voi? Invece no, perché c'è un gigantesco ostacolo a questo amore. Diane ha 15 anni appena e Filippo, invece, ne ha 33. Quella relazione che non nasce sotto i migliori auspici è travolgente e potete immaginarvi il perché. Per Diane, la fascinazione dell'uomo adulto è che sembra sapere il fatto suo, è irresistibile. Per Filippo, Diane rappresenta forse quello scampolo di spensieratezza che per ovvie ragioni si era perso per strada. Cedere alla passione è facile, ma dietro c'è la vita reale, che nel nostro caso è rappresentato dai genitori di Diane, che ovviamente sono contrari a quella relazione. Dopotutto, la loro figlia è poco più che una bambina. Secondo la versione di De Cristofaro, il rapporto fra Diane e i suoi genitori era pessimo, perché i genitori litigavano tutto il tempo, anche perché il padre, sempre secondo De Cristofaro, era un alcolizzato e la madre estremamente rigida, troppo per la personalità ribele di Diane, che viene descritta come una ragazza arrabbiata, estremamente emotiva e che spesso si lasciava andare a tremende crisi isteriche. Vero o no, la storia fra Diane e Filippo, invece di affievolirsi, si fa sempre più bruciante, ma anche estremamente precaria. Ecco perché un giorno Filippo e Diane decidono di lasciare l'Olanda. Quella sarà la prima di tante fughe, e la fuga in ogni sua declinazione sarà il motore della loro relazione e di questa vicenda che stiamo raccontando. Diane e Filippo lasciano l'Olanda nel febbraio del 1987, mettendo fra loro e l'Europa più distanza possibile. Vanno infatti in Polinesia, un luogo lontano abbastanza, perché la relazione proibita fra Filippo e Diane procedesse indisturbata. Ma la fuga non dura molto, appena tre mesi. Quando i soldi cominciano a scarseggiare, la strana coppia torna in Europa, ma non in Olanda, bensì in Italia, a Milano. E sì perché sul capo di De Cristofano, nel frattempo, pendeva una denuncia per sottrazione di minore. Poi però è Diane a voler ritornare in Olanda, i genitori la perdonano e ritirano la denuncia nei confronti del De Cristofaro, a patto però che i due smettessero immediatamente di vedersi. Diane nei mesi successivi è una sorvegliata a vista, non fa un passo senza la sorella o la madre, ma non smette mai di sentirsi con Filippo, fino a che, complice a una serata in discoteca, i due finalmente si rivedono e quella sera stessa fuggono insieme. Prima tappa il Belgio, poi di nuovo via verso il Pacifico e poi nuovamente in Europa, questa volta in Grecia, lì dove verranno raggiunti dal fedele amico Peter. Filippo, che aveva la passione per le barche e il mare, diventa un portento nel farsi prestare imbarcazioni, o per meglio dire, sottrarle con l'inganno, spostandosi da un porto all'altro, mollando una barca e prendendone in prestito un'altra, senza soluzione di continuità. Un vero e proprio rambo del mare, o meglio, così è come verrà ribattezzato sui giornali, quando le cose, per il De Cristofalo, si metteranno maledettamente male. Le risorse di Filippo sembrano inesauribili, sfuggire diventa la sua abilità migliore, e un passo indietro a lui c'è sempre lei, Diane, troppo giovane e troppo succube della personalità dominante dell'uomo per sottrarsi la sua volontà. Con una barca sottratta a un amico, o come dirà l'uomo presa in usufrutto, il trio delle meraviglie torna dalla Grecia per approdare prima a Catania, dove molleranno la barca, e poi in terra romagnola, precisamente a Rimini. A Rimini si fermano in pianta stabile, l'uomo dà prima lavoro al porto, poi come portiere notturno in uno dei tantissimi hotel della riviera. Ma la voglia di fuga scorre veloce nelle vene del De Cristofalo, ecco perché quella proposta di Bersani di imbarcarsi su un catamarano direzione Baleari, diventa la sua nuova ragione di vita. E torniamo quindi a Pesaro, ai tavolini di un bar, lì dove Anna Rita, Curina e la coppia Filippo-Diane si conoscono per la prima volta. Filippo ha un modo di fare ammaliante e senza dubbio accomodante, anzi è un uomo che si plasma sull'interlocutore. Filippo si sintonizza sugli umori altrui, e con Anna Rita si mostra affabile, disponibile, flessibile e aperto a ogni proposta. Diane invece è scontrosa, annoiata e irritata da quell'atteggiamento camaleontico di Filippo, come lo chiama lei. Durante quell'incontro fissano la data di partenza, il 6 giugno. Successivamente la data verrà spostata al 10 giugno, a causa di un piccolo intoppo, perché Bersani, che sarebbe dovuto partire con loro, aveva già preso altri impegni e si sarebbe liberato solo a metà giugno. Anna Rita, che aveva progettato il viaggio con lui, voleva aspettare De Cristofalo, no. Ed è lui a insistere. Sempre con toni pacati, sommessi e affettati, affinché partissero il prima possibile, e quindi senza Bersani. Non si impone, prova a piegare Anna Rita al suo volere, con la forza della diplomazia e del buonsenso. Alla fine raggiungono un accordo e stabiliscono che Bersani li avrebbe raggiunti dopo un paio di giorni per poi proseguire insieme il viaggio. Ma non tutto andrà secondo i piani, ahimè. Il viaggio della vita di Anna Rita, quello che aveva sognato per anni, non era iniziato come lei avrebbe voluto, insieme all'amico di sempre. Ad ogni modo il giorno della partenza è finalmente arrivato e un'arraggiante Anna Rita arriva al porto di Pesaro insieme alla sua famiglia venuta a salutarla. L'entusiasmo attorno a quella partenza è grande, c'è lo zio che gira un superotto, ad Anna Rita regalano una pianta di buon augurio, viene stappata una bottiglia di spumante e si scatta qualche foto. Così, dopo i baci, gli abbracci e i riti del caso, finalmente tutto è pronto per partire. Filippo e Diane, pronti a salpare, non partecipano a quel piccolo rito di buon auspicio. Se ne stanno un po' in disparte, fuggono dallo zio che insiste nel voler riprendere tutto. Diane si dirà era di un umore nero, De Cristoforo era sfuggente e la sera prima avevano mancato la cena organizzata dagli amici di Anna Rita per festeggiare la partenza. Se ne erano rimasti rintanati in barca, da soli. Ma non importa, è troppa l'emozione per considerare quei due come un'ombra nera su quel momento speciale. Anna Rita, con il cuore gonfio di gioia, si mette al comando del suo Arz, punta verso l'orizzonte e immagina già il momento in cui da lontano scorgerà i contorni delle Baleari. È il 18 giugno e Arz, da otto giorni, sta solcando il Mar Adriatico, seguendo però una rotta diversa rispetto a quella tracciata da Anna Rita. Nel 1988 i catamarani non erano imbarcazioni molto comuni e Anna Rita, con il suo Arz, è solita fare su e giù per trasportare i turisti lungo l'Adriatico. Uno dei suoi posti preferiti è Santa Margherita Leuca. Anna Rita è un'entusiasta, simpatica, cacciarona, e tutti conoscono lei e la sua bellissima e inconfondibile barca, di cui va molto fiera. Così, quando un marinaio vede gli scafi di un catamarano luccicare al caldo sole pugliese, riconosce subito l'Arz di Anna Rita. Fa un cenno di salute all'indirizzo dei componenti della barca, ma c'è qualcosa di strano perché al comando non c'è Anna Rita, bensì un uomo alto, Bruno, con una ragazzina bionda al suo fianco. E soprattutto, sulla fiancata, c'è un altro nome, Fly Chu. Eppure, avrebbe giurato fosse l'Arz quello. Dov'era Anna Rita? Per capire meglio dobbiamo fare un passo indietro e tornare otto giorni prima, al giorno della partenza. Abbiamo visto come Anna Rita e il suo Arz avevano lasciato il porto di Pesaro la mattina del 10 giugno 1988. Quella stessa giornata, alle 19.30, il catamarano, invece di proseguire lungo la rotta tracciata, inspiegabilmente attracca il porto di Ancona. A manovrare l'imbarcazione c'è lui, De Cristofaro. Al suo fianco, come sempre, c'è Diane. L'unica a mancare è lei, Anna Rita Curina. Lei da quel mezzo non scenderà mai, semplicemente perché non è più sull'Arz. Una volta sceso dalla barca, Filippo telefona subito all'amico Peter e in breve gli spiega di trovarsi al porto di Ancona, al comando di un catamarano che avrebbe dovuto portare fino alle Baleari. E' un attimo perché Peter venga coinvolto in quella che si rivelerà una delle storie più turpi della cronaca italiana. I due si danno appuntamento per il giorno dopo a Porto San Giorgio. I tre, insieme al pastore tedesco di Peter, lasciano Porto San Giorgio a bordo di quello che non è più il catamarano Arz, ma fly ciù. Ma c'è sempre una domanda che legge nell'aria. Che fine aveva fatto Anna Rita Curina? Anna Rita Curina su quella barca, la sua barca, non c'era perché giaceva a venti metri di profondità al largo di Marzocca di Senigallia. Il suo mare se l'era inghiottita per poi restituirla alla terra il 28 giugno 1988. Sarà il pescareccio azzurro 83 a ritrovarla incastrata nelle reti che avevano poco prima gettato. No, non era una pesca grossa quella, ma era un corpo di donna, avvolta in delle coperte e con un'ancora di 17 kg legata alle caviglie. Il corpo pressoché irriconoscibile per il tanto tempo trascorso in mare era dilaniato da varie ferite, special capo colpito da svariati colpi di macete e poi una vistosa e profonda ferita al fianco. La donna indossava ancora una maglia vistosamente macchiata di sangue. Quando la ripescano dal mare, nessuno sa chi sia quella donna dai folti capelli ricci. Anna Rita verrà riconosciuta solo il 30 giugno da uno zio. L'autopsia appurerà che Anna Rita Curina, quando era stata calata in mare, era già morta. Il viaggio della vita, quello che aveva sempre sognato, sarebbe stato per lei anche l'ultimo. Gli inquirenti che indagano su questa misteriosa morte apprendono dai disperati familiari della donna che la skipper era partita il 10 giugno da Pesaro con a bordo due ospiti, un italiano e un olandese. Si apre così la caccia al catamarano della morte. Ed è una caccia poderosa che coinvolge non solo tutte le capite neri di porto del Mediterraneo, ma anche e soprattutto barche di privati che avevano preso a cuore la straziante storia di Anna Rita e volevano contribuire alla ricerca degli assassini di una donna con un sogno ad infrantumi. I tre, che avevano un vantaggio di 18 giorni, verranno avvistati un po' ovunque. Il primo avvistamento della barca è il 18 giugno a Santa Margherita di Leuca, poi punteranno verso la Sicilia, precisamente a San Vitolo Capo, poi Marettimo, nell'Egadi. Il piano di fuga progettato dei tre prevedeva poi di raggiungere Gibilterra, dove speravano di guadagnare l'Atlantico e fare perdere le proprie tracce. Ma qualcosa va storto, perché dopo aver raggiunto la costa del Marocco, i venti del canale di Gibilterra avevano reso la barca ingovernabile, ed E. Cristofaro non era così esperto da saperli sfruttare. Ripiegano quindi sulla Tunisia, dove vedendosi perduti abbandoneranno il Flychu su una spiaggia, per proseguire a piedi. A Tunisi, il 29 giugno, apprendono con sgomento che a largo dell'Adriatico era stato ritrovato un cadavere zavorrato. Quello, lo sapevano, era solo un appuntamento rimandato col destino. Un destino da cui Filippo e Diane avevano cercato di sfuggire con tutte le loro forze. Non potevano immaginare che i fondali di quel tratto dell'Adriatico fossero così poco profondi da far riemergere il corpo straziato di Annarita dopo così poco tempo. Scopriranno di essere ricercati sia dalle autorità tunisine che da quelle italo-olandesi. Le loro facce, i loro nomi, erano su tutti i giornali. E chissà se Peter era già stato messo al corrente di quanto era accaduto. I due, anzi i tre, adesso devono fuggire il più lontano possibile, perché erano stati Filippo e Diane a uccidere Annarita Curina. Filippo, Diane e Peter, con il suo pastore tedesco, affittano dei cavalli e si lanciano nella folle impresa di attraversare il deserto per raggiungere il confine con la Libia. Solo che, disgraziatamente, un ignaro Peter aveva portato con sé il suo adorato cane, che, potete ben immaginare, non era in grado di mettersi al passo con dei cavalli galoppanti. Il povero cane, a causa di quella attraversata folle, si era ferita ai cuscinetti delle zampe e non riusciva a proseguire. Toccava fermarsi per farlo riprendere. Una sosta che però costerà il loro caro, perché dei gendarmi noteranno i tre e chiederanno loro le autorizzazioni dovute per spostarsi da una città all'altra, che però via ragioni non avevano. Verranno convocati nei loro uffici per accertamenti. I tre, nonostante il terrore per ciò che avrebbero potuto scoprire, non hanno scelta, devono seguirli. Consegnano loro i passaporti e vengono ispiegabilmente lasciati andare. Un colpo di fortuna inaspettato. I tre, sollevati, vengono riportati al villaggio di Garemel, ma non dura molto. Appena due ore dopo, con una scusa, i tre vengono riportati al comando e lì verranno identificati e arrestati. È il 19 luglio del 1988. Quando vengono interrogati, sia Filippo che Diane daranno una versione dei fatti univoca. E raccontiamola allora questa storia, o meglio questa versione della storia. Torniamo al 10 giugno del 1988, a quel primo giorno di navigazione. Il primo e l'ultimo per Annarita. Nei giorni precedenti la partenza, Annarita e i due ospiti avevano caricato la barca a dovere. Annarita aveva anche stirato una dettagliata tabella di marcia, oltre a una rigida distribuzione dei compiti. Sembrava tutto a posto, eppure, poco dopo la partenza, uno dei due timoni smette di rispondere ai comandi. Si decide così di ripulire per bene il timone incrostato di alghe. Così, con De Cristoforo alla guida, Annarita si immerge per disincagliare il timone dalla sporcizia. La skipper riemerge dall'acqua e con un gesto assolutamente spontaneo e naturale si toglie la maglietta fradicia e rimane asseno scoperto. Qualcosa a cui normalmente nessuno avrebbe fatto caso, ma che per Diane rappresenta un chiaro segno di sfida da parte di Annarita. Quella donna Diane proprio non riesce a sopportarla, e non solo. Secondo Diane cercava di farsi notare da Filippo, e come se non bastasse, la escludeva e la faceva sentire poco considerata. Anzi, sentiva che Annarita non l'avrebbe voluta a bordo. E poi, come si permetteva di darle ordini? Cosa credeva quella donna che non fosse in grado di stare su una barca? Eppure, il massimo che le faceva fare era recuperare le cime a poppa, mentre loro se ne stavano a prua a ridere e scherzare. E poi quella complicità fra loro, quel loro parlare in italiano mentre lei non capiva una parola, la mandava letteralmente fuori di testa. Macina rabbia e frustrazione, Diane. Si mostra svoiata, apatica, e non manca di riversare il suo malumore su De Cristofalo, reo a suo dire, di non considerarla e dare tutte le attenzioni solo ad Annarita. In realtà, il rigido protocollo di navigazione imponeva che ognuno facesse la propria parte, ma Diane, forse troppo giovane e inesperta, reagiva male a una normalissima routine, paventando scenari dal quale lei era esclusa. Quel primo giorno di traversata, nonostante tutto però, sembra scorrere senza altri intoppi. Filippo e Annarita decidono che si sarebbero alternate al timone. La skipper avrebbe dato il cambio a Filippo nel pomeriggio, prima però vuole riposare, perché si sente un po' stanca, e così punta la sveglia alle tre, in tempo per informarsi sul bollettino meteo, strumento fondamentale per chi naviga. Si sente stanca Annarita, assonnata, e non è da lei, sempre piena di energie, ma per quella improvvisa letargia c'è una spiegazione. Colpa di un caffè che Diane aveva preparato e offerta alla skipper, e non un normale caffè, visto che era stato mischiato a svariate gocce di Valium. Si dirà, Diane la voleva fuori dai giochi per un po', ma quel caffè pieno di Valium sarà l'anticamera della tragedia. Diane, gelosa marcia, non sopporta più che Annarita stia intorno al suo uomo, o meglio, questo è quello che la sua fantasia le suggerisce. Ma De Cristoforo era davvero ignaro di quel piano di Diane? Lui sostiene di sì, ma qualcosa sembra smentirlo, ad esempio sapeva della presenza del Valium, e sapeva anche che fosse stato travasato in un barattolo senza contagocce, in modo che fosse più agevole versarlo sui cibi o sul caffè. Annarita quel caffè lo sorseggia appena, ma non servirà a mitigare gli effetti del Valium, tutta un tratto sente un sonno invincibile e va sotto coperta per riposare. Qualcuno la sorprende nel sonno e le sfera un fendente all'addome, quel qualcuno è Diane, la diciassettenna innamorata di De Cristoforo, che dapprima l'aveva messa a cappà con il Valium e poi, vigliaccamente, l'aveva colpita con un grosso coltello. Quando torna su, Diane è come in stato catatonico, ma tiene ancora saldo il coltello grondante sangue. De Cristoforo non capisce subito, non realizza, ma corre sotto coperta per andare a controllare. Si troverà davanti il macerbo spettacolo della povera Annarita, in un lago di sangue, in fin di vita. Non c'è molto tempo per pensare, non c'è tempo di discutere, c'è solo da agire. È sconvolto De Cristoforo, ma ritrova in fretta la lucidità e, per prima cosa, lancia il coltello in mare. Poi prova a riprendere ed assestare la bar. Molla così delle cime nel tentativo di stabilizzarla, anche perché c'era troppa vela e il vento andava avveniva. Con De Cristoforo ai comandi, per il corpo martoriato di Annarita non c'è pace, perché Diane, approfittando della distrazione del De Cristoforo, afferra il macete in dotazione alla barca e con quello si accanisce sul cranio e sul volto di Annarita. La colpisce due volte, ma sono colpi violentissimi, dati con una rabbia incontenibile. Non mi è chiaro se Annarita fosse già morta a quel punto, ma in ogni caso quei colpi non le avrebbero lasciato scampo. Dopo aver assicurato la barca, De Cristoforo e Diane avvolgono il corpo della povera Annarita in una coperta e la zavorrano con un'ancora da 17 kg. Dopodiché la lanciano in mare, dove sprofonderà nei fondali bassi di Senigallia, che per venti giorni sarà la sua tomba silenziosa. Le avevano distrutto un sogno, ma anche la vita. La tragica coppia punta al porto più vicino, quello di Ancona, dove attraccano alle 19.30. Per Filippo è necessario che l'amico Peter venga il loro soccorso, perché navigare con Diane sarebbe stato impossibile vista la sua inesperienza e la sua scarsa visibilità notturna, che già una volta gli era costata la chiglia di una barca. Il solerte Peter, amico di entrambi, non coglie la fregatura e, ignaro di quanto era avvenuto, si mostra entusiasta. Non sa che si ritroverà un mese dopo arrestato per favoreggiamento in un caso di omicidio. I tre, dopo l'interrogatore in Tunisia, vengono estradati nei rispettivi paesi. È da quel punto che cambia lo scenario. Sì, perché mentre De Cristoforo, in custodia cautelare nel carcere di Ancona dà sempre la stessa versione dei fatti, Diane improvvisamente cambia le carte in tavola, ritratta la confessione e offra agli inquirenti una versione dei fatti completamente diversa. Quello della Curina non era stato un assicido d'impeto, bensì architettato e pianificato dal suo fidanzato, Filippo De Cristofaro. Mi aveva detto che se mi prendevo la colpa ne saremmo tutti usciti con poco, così ci saremmo riabbracciati presto. Secondo questo nuovo e sconvolgente scenario, Diane era stata manipolata dal De Cristofaro, che, come un abile puparo, aveva tenuto insieme tutti i fili di questo deprecabile piano omicida. Già, ma qual era il piano? Uccidere la Curina e impossessarsi del catamarano e poter vivere viaggiando. Vivere da fuggiaschi, però. Il piano prevedeva di narcotizzare Annarita con del Valium e ucciderla nel sonno. E a farlo avrebbe dovuto essere Diane. Un piano semplice sulla carta, la addormenti, la uccidi e la butti in mare. Ma la realtà è ben altra cosa. E se fino a un certo punto Diane aveva eseguito le istruzioni, quando è stato il momento di agire, la ragazza si era tirata indietro. Non ce la faceva. Non riusciva a scendere sotto coperta e uccidera a sangue freddo una donna che, in fin dei conti, non le aveva fatto niente. I due cominciano a discutere animatamente. De Cristofaro gioca sporco e dice a Diane «Se non vuoi farlo, significa che non mi ami». Diane con la frase vacilla, fa un lungo respiro e scende sotto coperta. Entra nella cabina di Annarita, li si avvicina tenendo in mano il coltello e la pugnala al fianco. Una ferita sicuramente grave, ma sferrato in un punto non vitale. Contrariamente alle aspettative, Annarita non solo non muore sul colpo, ma addirittura si alza in piedi e inizia a urlare, cercando di guadagnare l'uscita verso la cabina. Richiamato dalle urla, arriva De Cristofaro, che finge di essere sorpreso dalla scena che si trova davanti e si presta a soccorrere la donna. L'accompagna fuori dalla cucetta, la aiuta a sedersi sul ponte e qui, afferrato un macete, le sferra due colpi sulla testa uccidendola. Il resto lo sappiamo. A questo punto io mi chiedo perché fingersi sorpreso, se poi l'intento era quello di ucciderla. Forse una spiegazione proprio nella natura subdola di De Cristofaro. Questa natura così camaleontica, no? L'uomo anche in quel frangente non riesce a essere se stesso. Deve fingere. Quindi è incapace di prendersi le sue responsabilità e uscire allo scoperto, anche di fronte all'evidenza dei fatti. Un atteggiamento il suo, che lo vedremo, non smetterà di governare le sue azioni. E colpo di scena, il 5 agosto del 1988, durante un interrogatorio, De Cristofaro conferma la versione di Diane. O meglio, si limiterà a dire, se Diane ha detto così, sarà senz'altro successo così. Ma questa presa di coscienza non dura molto, perché qualche giorno dopo De Cristofaro ritratta tutto e torna alla versione precedente. Diane, in un impeto di gelosia, aveva ucciso la curina, ritagliando per sé il solo ruolo di Mr. Wolf della situazione che risolve i casini fatti dalla fidanzata. Ma la versione di Diane convince molto di più gli inquirenti e per sveriate ragioni. Innanzitutto, secondo l'autopsia, i colpi sferrati dal macete erano stati così violenti e dati con una forza che una ragazzina esile e inesperta non avrebbe mai potuto imprimere. Il macete in dotazione alla barca, in realtà, erano stati gli stessi Filippo e Diane a portarla a bordo, con la scusa che un macete in una barca serve sempre nel caso in cui, ad esempio, si fossero aggrovigliate le cime o l'elica fosse rimasta incastrata nelle reti. Il coltello usato per uccidere Annarie viene appurato e era stato limato in un negozio di rimini. Anche la versione di Peter convince gli inquirenti che quello fosse davvero un piano ben studiato a tavolino. Sì, perché Peter si ingarbuglia con le date e si lascia scappare che l'amico De Cristofaro lo aveva invitato a viaggiare con loro giorni prima della partenza, che avrebbe dovuto essere il 6 giugno. Peter quindi aveva prenotato un biglietto del treno per Ancona per l'8 giugno. Poi però erano iniziate le trattative per slittare il giorno della partenza al 13 di giugno, in modo che ci fosse anche Bersani a bordo. Ma questo avrebbe complicato il piano, perché uccidere due persone sarebbe stato meredettamente più complicato. Si doveva partire prima in modo che Bersani fosse fuori dai piedi. Alla fine era spunta Filippo, partenza il 10 giugno. A quel punto però Peter aveva più volte prenotato e disdetto il viaggio in treno da Rotterdam alle Marche. Il 12 giugno però finalmente, come da accordi, si fa trovare a Porto San Giorgio, essa alla bordo di un incubo. Sempre secondo gli inquirenti, la decisione di mettersi d'accordo su quella prima versione dei fatti era venuta a De Cristofaro subito dopo l'arresto. I tre rimarranno nella stessa cella per qualche ora. Lì l'uomo avrebbe cercato di convincere Diane a prendersi tutta la responsabilità, cercando di fare leva sul fatto che in Italia i minorenni non vengono puniti, o che comunque se la cavino con poco. Fa leva sui suoi sentimenti, sulla sua fragilità e la sua insicurezza di ragazzina innamorata di un uomo maturo. E Diane accetta. Fine della storia. Sulla stampa De Cristoforo viene il ritratto come il rambo dei mari. Un uomo all'apparenza mite che parla con un tono pacato, che non si scompone mai. Quello che davanti alle telecamere dice sono solo un ragazzo che è scappato con una ragazza per amore e che gli eventi hanno... Sono assolutamente un rambo. Sono un ragazzo che è scappato con una ragazza per amore e che gli eventi hanno trascinato sempre più in giù. Purtroppo non è tanto una questione alla rambo così valorosa, ma è più che altro un dramma. Ma chi agisce in maniera suddola e senza alcuno scrupolo, al punto da coinvolgere altri per raggiungere i suoi biechi scopi. Tra cui l'olandesina minorenne, come venne ribattezzata con un vezzeggiativo che intendeva mitigare le sue colpe e donarle un'aura di innocenza che facesse da contraltare a quella da uomo nero di Philip, come lo chiamava lei. I più audaci presero a definirla Lolita, icona di innocenza e spregiudicatezza insieme. In tutti i casi, in quella estate infuocata, gli avidi lettori ebbero il loro romanzo nero da divorare. Da questa narrazione, come sempre avviene, la povera Annarita era completamente scomparsa. Lei e i suoi sogni, il suo sorriso disarmante, una famiglia che l'adorava, i sacrifici e le levatacce al mattino. Niente di tutto questo era stato raccontato. Di questa eroina tragica nessuno aveva fatto un ritratto. Al processo di primo grado, i giudici hanno condannato De Cristoforo alla pena di 30 anni per un suicidio premeditato e occultamento di cadavere. In appello e in cassazione, la pena è stata commutata in ergastolo. L'uomo viene rinchiuso nel carcere di opera. Diana, invece, è stata giudicata dal Tribunale dei Minori e condannata a una pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione. Le verrà concessa, però, la libertà condizionale e un periodo di permanenza in una comunità vicino Grosseto. In tutto sconterà 15 mesi. Tornerà in Olanda, dove tenterà di rifarsi una vita, si sposerà con un ragazzo greco da cui avrà tre figlie, ma a cui non dirà mai nulla di quanto era successo nel suo passato. L'uomo lo scoprirà in seguito dai giornali che annunciavano l'evasione di Filippo De Cristoforo. Sì, perché Filippo, fuori dai guai, proprio non sa starci, ma è soprattutto in carcere che non vuole stare. È il 2007, quando l'uomo evade per la prima volta dal carcere di opera, in seguito a un permesso premio. L'uomo viene catturata a Otrecht in Olanda un mese dopo. Casualmente, la città di origine di Dianne. Viene poi rinchiuso nel carcere di Re Bibbia. Passano sette anni e, di nuovo, approfittando dell'ennesimo permesso premio di tre giorni, questa volta all'isola d'Elba, De Cristoforo gabba tutti e lascia l'isola. Vivrà da latitante per ben due anni, fino a quando non viene riacciuffato dalla polizia di Ancona in Portogallo. L'uomo, ormai 62enne, era in possesso di documenti, patente inautica falsi e denaro in contanti, quasi 5.000 euro. L'eroica impresa della polizia italiana venne celebrata come la cattura del più pericoloso latitante italiano. Quando viene arrestato, da prima nega, poi finisce con il fare i complimenti alla polizia, per poi sciogliersi in una risata decisamente nervosa. Viene tenuto in custodia cautelare in un carcere portoghese in attesa di estradizione. Ma voi penserete, vabbè, è finita qua. No, perché per uno strano scherzo della burocrazia, una volta scaduti i termini di custodia, Cristoforo è stato libero di andarsene. E poiché la richiesta di estradizione presentata dall'Italia non è mai stata elaborata dal Portogallo, l'uomo attualmente è legalmente un uomo libero. Un libero cittadino. Assurdo, lo so. E posso solo immaginare la frustrazione e il rinnovato dolore dei familiari di Anarita. Nessuno ha davvero pagato per la morte della loro adorata figlia. Ve l'avevo detto, questa è prima di tutto una storia d'amore, quella fra Anarita e il suo adorato mare. Non era il suo momento per morire. Avrebbe certamente vissuto mille altre avventure, ma sono certa che il mare fosse l'unico posto che poteva custodirla. E si conclude così il mio video. È una vicenda molto nota, lo so, però come sempre ci tenevo a raccontarvela nella mia maniera. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, iscrivetevi alla pagina Instagram se volete, attivate la campanella e a presto. ancora non la vostra crime. Ciao!